volete avvicinarvi al mondo di magic ma non volete spendere cifre elevate per iniziare a giocare avete acquistato il vostro primo starter ma vi rendete conto di non essere affatto competitivi nei tornei locali quale aspetto del tcg numero uno allora potrà rispondere nel migliore dei modi alle vostre richieste nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale magic the gathering il primo tcg della storia ha attirato a sé milioni di giocatori introducendo grandi e piccoli nei suoi piani che hanno fornito mondi incredibilmente ricchi di particolari il gioco di carte ideato e sviluppato da richard garfield se vi la siete persa vi lascio qui in alto l'intervista che ho svolto assieme a lui è dal 1993 che fabbrica idee nuove pronte a soddisfare l'immaginazione di ogni singolo giocatore stampando su carta veri e propri tesori che con gli anni hanno raggiunto quotazioni da capogiro uno su tutti il black lotus del gioiello disegnato da rush però ne parleremo in un video dedicato e del fiore in questione l'unico aspetto che mi interessa trattare proprio il costo oltre a questa iconica carta anche altre hanno raggiunto vertici di prezzo stratosferici alzando le barriere di accesso alle dinamiche di questo gcc impedendo quindi a chi voleva provarne le meccaniche di intraprendere un viaggio alla scoperta di personaggi la lore e soprattutto lo stile di gioco di magic ma tali barriere sono state abbattute grazie alla consacrazione di uno stile di gioco che ha consentito dal 2019 data della sua introduzione tra i formati ufficiali riconosciuti dalla wizard of the coast a tutti nessuno escluso di approcciare nel migliore dei modi il prodotto ideato da garfield essendo competitivi nell'immediato grazie ad una spesa che sarà alla portata di ogni tasca prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei tcg in più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite molto altro ancora e alla pagina facebook grazie infinite per il supporto torniamo al video ed ora scopriamo assieme la modalità pauper di magic the gathering andiamo a dargli un'occhiata prima di iniziare ad esplorare le dinamiche che muoveranno questo formato scopriamo cosa sta a significare la parola pauper il termine deriva dal latino e tradotto vuol dire letteralmente povero indigente modesto se riferito a persone a cose invece si traduce come scarso o mediocre la storia di questo formato ha visto alti e bassi a partire dalla sua assenza dal formato elegibile per le qualificazioni sul nascere delle magic online championship series del 2017 da parte della casa madre in persona tenutisi nel mese di marzo essendo nato sulla piattaforma online del gioco da non confondere con arena che è tutt'altra cosa il pauper veniva giocato esclusivamente in campionati casuali non valevoli quindi per accumulare punteggio per le qualificatorie ma dopo una revisione della struttura degli eventi organizzati virtualmente le leghe appartenenti a questo formato sono state reintrodotte nel maggio sempre del 2017 come eventi validi per le quali fire play nelle magic online championship series con il passare del tempo il pauper ha iniziato ad interessare anche i giocatori che fisicamente utilizzavano carte reali creando una distinzione di terminologie che vedevano i giocatori di pauper impiegare i propri rimori sulla piattaforma web e i paper pauper traslare tutto sul piano concreto nel giugno del 2019 infine le regole digitali e cartacee sono state unificate creando un singolo fronte compatto uguale per entrambe le categorie di giocatori che da quel momento hanno seguito una regolamentazione ben specifica banned e limited list apposite e tutto ciò che ha comportato la costruzione ideale per un mazzo legale in questo formato ok arconte bella la storia e tutto quanto ma cosa mi servirà per mettere assieme tutte le carte che andranno a formare il mio mazzo e quanto dovrò spendere alla fine della fiera per il pauper vi serviranno unicamente carte di rarità comune e nient'altro infatti saranno escluse per la costruzione di un grimorio valido tutte le non comuni le rare e le mitiche per capire se un elemento sarà legale in questo formato vi basterà visionare l'icona in basso a destra proprio sotto l'immagine della carta stessa o consultare la lista delle bannate ve la lascerò in descrizione ciò comporterà che il costo di ogni deck sarà molto più abbordabile rispetto ad altri formati dove la spesa risulterà essere di molto maggiore calcolando che un mazzo come il tramutante che gioco personalmente si aggira di solito attorno alla ventina di euro se poi vorrete giocare archetipi più performanti come il born ad esempio lì il prezzo salirà sulla cinquantina e si parlerà di avere un deck tier 1 stessa cosa per l'affinity che vedrà un costo intorno alla quarantina il golgari che non andrà oltre la sessantina e così via insomma sotto i 100 euro abbondanti avrete a disposizione un mazzo pronto all'uso che potrà dire la sua in un torneo locale o di dimensioni maggiori come ad esempio il pauper geddon che nel palinsesto vede anche delle tappe italiane concludendo il pauper è a tutti gli effetti il formato cartaceo più abbordabile di magic the gathering ideale per tutti coloro che vorranno iniziare a testare a fondo le dinamiche del padre di tutti i tcg lo consiglio quindi ad ogni neofita che è incuriosito e vuole provare il gioco costruendo un proprio mazzo che a livello di rapporto qualità prezzo di sicuro barra a pieno la spesa in descrizione vi lascerò due siti dove poter trovare il grimorio che più si adatterà alle vostre esigenze e il sito car trader dal quale ordinare ogni singola carta che lo comporrà in più registrandovi su quest'ultimo sito attraverso il link che troverete in descrizione riceverete due euro di bonus da spendere sul prossimo acquisto che effettuerete il gcc ideato da garfield non è mai stato così facile da intraprendere e attraverso le dinamiche semplici da ricordare del pauper anche chi ha dubitato di avvicinarsi alle meccaniche del tcg numero uno della storia visti i costi di partenza ora potrà iniziare a muovere in totale libertà i primi passi attraverso gli sconfinati piani di magic the gathering e voi eravate a conoscenza di questo formato di gioco come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video